Shantini namaste a tutti voi, permettetemi di salutarvi così oggi perché l'argomento che tratto è molto importante a livello personale ma non solo soggettivo, è un argomento che interessa per fortuna uno strato sempre maggiore in aumento di persone. Allora a che cosa mi riferisco? Alla spiritualità, per anni noi italiani siamo stati sempre correlati a una situazione, a un'impostazione più che situazione cattolica. Io stesso ho frequentato la chiesa da ragazzino essendo pure diciamo al contempo un rappresentante, un esponente molto molto diciamo valido dell'essere una persona normale. No, per niente, ero un monello. Sono scappato da casa due o tre volte, diverse volte da bambino. Ho vissuto fuori da casa che ero un bambino, avevo la prima volta che scappai di casa nove anni. Poi la seconda a undici eh sì ragazzi, non ci stavo bene a casa perché casa mia non era una famiglia. Non voglio parlare di questa cosa molto molto negativa che ha segnato oltre che me anche il nucleo familiare e attuale che sono, cioè vale a dire le mie sorelline che saluto con un bacione. Maria e Paola. Bene, parliamo un po' di spiritualità. Per anni siamo stati relegati all'utilizzo perlomeno, così all'utilizzo, perché uno che legga il Vangelo, la Bibbia, ma piuttosto il Vangelo dovrebbe aderire a una certa norma comportamentale e rispettosa degli altri. Così nell'ultimo cinquantennio non è stato. La scuola ha predicato bene e razzolato male. La scuola intendo la scuola cattolica, più che chiesa ecco, ma anche la chiesa, ma mi riferisco proprio alla impostazione che ci hanno inculcato nella testa frequentando gli oratori, le chiese, eccetera, eccetera. Bene, detto questo, ho fatto una breve, diciamo, un prologo, ecco. Posso passare all'argomento trattato. Più che leggere la Bibbia, o meglio ancora il Vangelo, bisognerebbe, oltre che leggerlo, assimilarlo e praticarlo nella vita di tutti i giorni. Io penso che se fosse così, ma non è così purtroppo, la vita avrebbe un altro, come posso dire, un ben altro tenore di vita. Sarebbe caratterizzata da una qualità, un rispetto che ci spronerebbe a vivere meglio tutti e in modo un po' più disinteressato rispetto a che cosa? Al denaro, ad esempio. Così non è stato. Non è per questo libro. Biografia, la biografia di uno yogi o yogi a seconda di quello che preferite. Il concetto non cambia. Questo libro enuncia la vita, parla della vita e della modalità di vita, soprattutto, attenzione, di questo grande esponente dello yoga del secolo scorso, quasi due secoli fa, ecco, non del secolo scorso. Paramahansa Yogananda, una grande persona, un grande e umile uomo, inarrivabile per tal universi. Prendete nota, compratevi questo libro. Questo è dell'Ananda. A proposito dell'Ananda, fatemi parlare un pochino di che cosa sia questa grandissima, diciamo, esponente di una certa cultura che anni fa era pratica, ora è diventata commerciale che più commerciale non si può. Senza nessun astio, per i carissimi amici dell'Ananda, che alcuni li conosco, molti altri sono stati i miei allievi negli anni e li ho formati con la qualifica per cui venivano a formarsi, cioè insegnanti yoga e addirittura negli ultimi dieci anni con qualifica da maestro yoga. Un po' meno, ma ne ho avuti parecchi centinaia che si sono formati, divenendo maestre di questa disciplina e, come la definisco io umilmente, scienza umana. Lo yoga è una scienza, un'arte, una disciplina che ha un dono a tutta l'umanità. Lo diceva anche questo signore. E pertanto, senza tanti fronzoli, giri e contorsionismi di parole, l'hanno fatto capire al mondo con il loro esempio, con la loro pratica. Bene, torniamo all'associazione Ananda, con tutti gli elogi immaginabili che posso esternare verso questa struttura, che vivono in un modo naturale, non si manza carne, si vive come in una comune, si prega molto, si medita, si pratica yoga e niente, ci si alza le 5 del mattino. A proposito delle 5 del mattino, dopo vi parlerò. A caso, credetemi a caso, avevo questo segnalibro che è della mia prima scuola di yoga di anni fa, di 35 anni fa, in cui sono esposti gli orari. ne parlerò poi dopo. Torniamo alla Ananda, se no creo confusione e non voglio assolutamente con tutta la benevolenza che ho in pratica nei confronti di questa struttura che è stata una delle prime e purtroppo perché tale, devo dire la mia senza offesa, ripeto, ho avuto centinaia e centinaia di persone che hanno frequentato l'associazione Ananda nella loro bellissima location, autocostruita, è proprio il caso di dirlo, dall'aiuto e collaborazione di tanti volontari e giunti da tutte le parti del mondo che si sono messi a disposizione per costruire questo centro. È un centro artistico anche per me, dove un artista, quale io mi reputo, scusate la presunzione, può trovare il giusto centraggio, la giusta spiritualità per migliorare e attingere alla sua creatività, migliorandola, sviluppandola o ulteriormente non è un gioco di parole. Bene, in questo centro, alle porte di Assisi, bellissima la location, Assisi già enuncia il nome di San Francesco, questo è cattolicesimo, questo è un esempio. Madre Teresa di Calcutta può essere un esempio lampante di come vivere il cattolicesimo, ma anche non il cattolicesimo, tutte le religioni di questo mondo, perché tutte sono basate su una cosa, la spiritualità, che non ha religione. Questo centro mi piacque fin da anni fa, che lo frequentai per poco tempo, devo dire, pochi giorni, ma nel quale ho preso una certa decisione importantissima. Se oggi sono qui e anche per merito di questa mia piccola esperienza che feci, allora i tempi erano tempi appunto non sospetti, il momento era un tempo non sospetto ancora, in cui si faceva, non dico gratis, nessuno regala, mettetevelo dentro la testa, se non ce lo aveste, ho la presunzione di farvelo notare, nessuno regala in questo modo, tantomeno oggi in cui si è alla ricerca di sostenersi e reintegrare il proprio conto bancario ulteriormente, malgrado le banche siano la vera autorevolezza, la vera struttura che con autorità, non autorevolezza, elencano e guidano il futuro della nostra società, di noi persone. Se fosse per me non esisterebbero le banche, infatti io non ho un conto. Strano, eh? Ma ho anche molte cose di cui voi non potreste fare a meno. Ad esempio ho rinunciato alla macchina volontariamente, prima perché non mi andava di essere legato a una posizione di schiavismo nei confronti della stessa, non ne ho bisogno e tantomeno abbiamo scoperto una cosa che neanche la mia famiglia ne ha bisogno. Il nucleo familiare è composto da me e mia moglie, ci organizziamo. Oggi come oggi se c'è una cosa buona che elargisce la rete è la spesa che te la portano a casa come vuoi te e puoi comprarla o nei centri commerciali o nei centri diciamo un po' meno commerciali e più nei negozi oppure addirittura negli agriturismi, cosa che facciamo io e mia moglie Lilli. Sarà forse brutta la frutta che compriamo, sarà maccata un pochino, però il gusto è quello naturale. Detto questo, scusate se mi esprimo con questa parvenza di esagitato, di esaltazione, no assolutamente, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo e di cui io sto riferendo. Ma torniamo al discorso dell'associazione Hananda. Ho visto un video YouTube perché la TV come sapete, come almeno alcuni di voi sapranno se seguite le mie attività non la vedo più, soprattutto la TV o televisione Rai, Fininvest, la 7 eccetera quella pubblica. Preferisco informarmi dalla rete YouTube perché mi tiene anche più in stretto contatto con le attività dei miei figli e soprattutto di mio figlio Simone che sta girando il mondo appena tornato dal Nepal e dall'India. Mi ha portato anche un bellissimo regalino che poi vi farò vedere. Quindi seguo le attività di questo mio figlio che ha uno dei registi, non lo dico per presunzione e con ipocrisia assolutamente, sono un papà orgoglioso, oltre che un insegnante, un formatore internazionale di yoga e non lo dico con presunzione, sono la bellezza di 47 anni che nella mia scuola soprattutto yogica si sono formati all'incirca 3.700-3.800 ma anche molti di più se prendo in causa anche gli insegnanti e gli istruttori, tra istruttori di supporto, cioè coloro i quali sono preparati per collaborare, coadiuvare l'attività già di un insegnante preesistente che porta avanti un corso. Questo insegnante è difficile che sia male, un praticante di yoga se vive lo yoga, però se avesse delle impellenze, se dovesse andare, avesse un impedimento o volesse semplicemente andare un po' in vacanze, bene, l'istruttore di supporto serve a questo yogico chiaramente. Ecco, quindi la mia scuola fatemi fare un po' di pubblicità nel senso che se no come si vive, come si pagano le bollette a cui oggi siamo tutti correlati e per pagarle siamo costretti anche a far del nero. Il messaggio va a chi di dovere, altro che reddito di cittadinanza oppure che fa bene, ci vuole, alle persone che hanno bisogno veramente di questa cosa qui, di questa situazione. Oggi è diventato invece il paese del godi, l'Italia, nel senso che tutti richiedono la cittadinanza, la cittadinanza, il reddito di cittadinanza italiana non avendone assolutamente motivo ragione e hanno due o tre attività, tutta in nero che è logica. Saper dire le cose nel modo più semplice e spontaneo, come mi vengono da dentro. Ecco, questo è lo yoga per me anche. Non è dire solo le cose compiacenti. E qui torno sulla parola compiacenti al messaggio che volevo inoltrare. Vedo che c'è un collegato. Mi sai dire, caro amico Shanty, come si sente l'audio, per favore? Perché il video vedo che si vede benissimo, però non riesco a capire se sentite bene. Ecco, tutto qui. È molto importante, più l'audio che ciò che si possa vedere a volte, perché l'immagine può ingannare. Benissimo, torniamo alla parola con cui ho terminato. E torniamo per questo all'Ananda. Questa magnifica struttura, sia ben chiaro, anzi vi invito ad andarci per prendervi un periodo sabbatico, anche una settimana, anche se poco conto, fa ridere una settimana, in questa struttura dove accettano tutti, si paga chiaramente, ultimamente anche parecchio, devo dire, in cui si possono riscontrare i veri messaggi contenuti yogici di questo e di tantissimi altri maestri, compresi le filosofie di madre Teresa di Calcutta, se vogliamo, oppure, meglio ancora, di Gandhi, del grande piccolo uomo. Ananda, lo stavo vedendo, mi ripeto ulteriormente e chiedo scusa, ho visto un video da YouTube, mezz'oretta fa, non di più, poco prima che ho deciso di fare questa diretta, questo mio piccolo intervento, in tutta umiltà, nella mia piccolezza, perché io mi ritengo di essere in questa società l'ultima ruota del carro, però non posso seguire questa società perché ho la ruota piccola e devo convergere con le indicazioni di questa società che si fa infinocchiare dal nulla, dalle menzogne e non ammetto il fatto di essere stata ingannata. Non lo ammetterà mai, perché l'orgoglio fa parte dell'emotività, del vivere di una persona. Sono in pochi ad accettare, ti rispondo dopo Lilli, allora, scusate, sono in pochi ad accettare questa situazione obiettiva che è accaduta dagli ultimi tre anni a questa parte da marzo-aprile 2020. Cosa ho visto in questo video? Le cose più belle che mi aspettavo di vedere e soprattutto mi ha colpito come possano sottolineare l'aspetto proprio personale di ciascuna persona che magari è un artista che va lì per ritemprarsi, collaborare con l'associazione Ananda e creare le sue opere per l'associazione. In qualche modo pur bisogna pagare. Se no, vi ha la possibilità anche di andarci per due o tre giorni pagando come se fosse un albergo, ma così è molto molto deleterio. Qual è la mia critica? Perché è una critica quella che faccio, ma perché la fa Alessio? Chi sono? Chi mi sento di essere? Nessuno. Ripeto, mi sento umilmente di essere l'ultima ruota del carro. Pertanto dico la mia. La mia opinione è che fare un'intervista dove si fa vedere la socialità del gruppo, la coesione, il rafforzamento di diverse razze, di diversi gruppi che la pensano anche all'opposto, di diverse nazioni che si stanno facendo le guerre. Tutti assieme è encomiabile, sia chiaro. Ce ne fossero tutte strutture così. E penso un domani, piuttosto che tornare in India, di farlo io stesso. Tornare in India a livello suppositivo, sia ben chiaro, perché non penso che andrò a spendere altri soldi per fare corsi di che cosa? Dopo che ho formato, e non è una carenza di umiltà, migliaia e migliaia di insegnanti, dei quali sotto i 500 sono, giù di lì ma ci avviciniamo vicinissimi a 500, 503, 4 anche forse, un giorno li conterò maestri in tutte le parti del mondo. La cosa che non mi è piaciuta, così mi levo il dente subito, è stato l'utilizzo e l'ostentazione esasperata della mascherina. Mentre socializzavano, cantavano, facevano il loro... con la musica adeguata, rilassante, alternavano immagini in cui l'intervistato di fronte alla telecamera aveva la mascherina. L'ho chiamata mascherina, come penso effettivamente sia, la mascherina, senza offesa. Vi era uno dei responsabili, una donna, che parlava spesso con la mascherina. Ma che senso ha? Cosa ti ha insegnato? Voglio dire, carissima amica, lo yoga. C'è un detto che dice, sì, il cambiamento che vuoi sia il mondo. Ma com'è possibile dare degli esempi se poi si razzola male? Non si è in coesione con quello. Perché io non faccio molta fatica, faccio molta fatica a pensare che tu sei relegata a una filosofia che appoggi la mascherina, in quanto praticante di yoga. Lo yoga è una scienza e non è la scienza che conosciamo adesso, che ci vogliono imporre. Ma veniamo a noi. Bene, casualmente ho tirato fuori, vi era questo segnalibro, da anni, da anni era qui. Infatti è vecchissimo ed è datato dal 1978. Nel 1978 ero giovanissimo, però avevo già avviato in pochissimi, e conoscono questa cosa, la mia attività con la mia scuola, la mia non palestra, la mia scuola di yoga. Perché una volta che ero nel periodo che stavo smettendo la mia pratica marzialistica col karate, perché mi aveva rovinato le articolazioni, da una pratica non scientifica ma estemporanea, a seconda del maestro che mi impostasse. Ne ho avuti tre, quattro, i migliori al mondo, posso dire. Faccio i nomi con riconoscenza comunque. Baleotti, Perlati, Balzarro, anche Ruffini, Ghiolaiti, maestri Marconi, che avevano un bar famosissimo qui a San Lazzaro di Savana. Tutti i maestri che comunque hanno apportato nella mia esperienza, la loro esperienza devastante. Perché sommata una all'altra, diversificata, mi hanno rovinato le ginocchia. Con le loro posizioni basse, la loro mentalità di essere rocci, di un colpo una vita, quando poi è bastata una mia esperienza, farmi capire che non bastava un colpo per far mettere a mito in consiglio un aggressore. Parlo in termini di difesa personale, non certo di umanità, assolutamente. Io le mani so tenermela in tasca, perché mi sento sicuro, anche nei frangenti più risolviti. Questo insegno con le mie arti marziali. Bene, lo yoga è stata sempre un ancora di riferimento nella mia struttura. Nel 1978 ne inizia la pratica. Si chiamava la mia scuola Yoga Vita. Cominciai con quella e poi negli anni divenne veramente una vera e propria scuola. Fino a che siamo diventati un must, e lo dico con orgoglio, non ipocrisia. Sono contentissimo di ciò che ho fatto nella mia vita. Per tutte le altre strutture che poi, soprattutto nell'ultimo decennio, sono sorte come funghi, sia per lo yoga e sia per discipline blasonate, quali il metodo Pilates, eccetera, eccetera. Lo yoga è la base di tutto. Dallo yoga sono sorte altre discipline, compreso il calisthenics. Ma ve lo immaginate? Voi ho formato una decina di insegnanti, istruttori di calisthenics negli anni, perché è una disciplina che non sento assolutamente mia. Identifico l'atletismo e l'allenamento sotto altre forme, non nel modo senisometrico. Poi vi spiegherò cosa vuol dire. Biomeccanicamente parlando, meno adeguato alla mia morfologia fisica, psicofisica. Allora, ho inculcato questa passione ai miei figli, soprattutto al regista, a Simone, al piccolino, a quello che gira il mondo. Si sta facendo una certa esperienza e si sta facendo conoscere come regista dei Vipo musicali. Bella storia, Zitti e buoni di Manischinna, bella storia con la moglie di e Fedez, Fedez e sua moglie, vabbè, non dico niente, merito. Appunto, Manischinna, Tancredi e Blanco, tutta la sua filmografia ufficiale è stata la regia, l'ha firmata mio figlio. Non ultimo, il video e la collaborazione Un briciolo di allegria, che Blanco canta con Mina. Anche lì il regista è mio figlio Simone. e senza parlare di nomi molto altisonanti nel repertorio musicale internazionale conosciutissimi tipo Post Malone. Questo è uno dei miei figli Simone, ma non voglio marciare su quello che sta facendo mio figlio, dando l'esempio ad altri. Mio figlio l'ho fatto crescere. I miei figli, infatti, sono due figli particolari. Sono diversi da tutti gli altri, ma non perché io li vedo come loro papà, padre, no. Perché li abbiamo fatti crescere in un certo modo. È bastata la prima marachella del grande, di Romolo, quando era piccolissimo, per redaguirlo adeguatamente e gli abbiamo raddrizzato la via, senza essere genitori aggressivi. Certo, io avevo l'abitudine di essere un papà, se è vero, questo è vero. Ho fatto soffrire, forse anche mio figlio è grande per questo, un po' più del necessario. Però io vedo che alla fine dei conti, a ragione veduta, ne è valsa la pena. Perché è venuto su che io lo invidio come persona adesso mio figlio Romolo. È uno degli insegnanti di meditazione, ma anche professionista. Lui è un produttore musicale che sta cambiando professione adesso, ha relegato il suo studio ad altri e ciò non vuol dire che non fa più musica e non produce più cantanti, dischi e via. Continua. Però si sta buttando sulla meditazione, cosa che è una sua natura, è veramente un portento. E abbiamo costruito le ali, oltre che a Romolo, anche a Simone, con dei sani contenuti. Noi cosa abbiamo fatto come genitori? Abbiamo fatto costruire le ali, vedete l'uccellino che vola? Dove vola? Con le ali che i genitori, io e lì li abbiamo costruito. Nei lidi di propria appartenenza. Dove vogliono loro? Gli porteranno le loro ali. Questo fa un bravo genitore. E penso proprio di averci azzeccato, perché fare il genitore è la cosa, come dicono tutti, ma io lo dico a maggior ragione, più ardua, non difficile, ardua al mondo. Quando lasciate i vostri figli in balia e nelle scuole elementari, negli asili, in balia loro, dove li mettono la mascherina di continuo, dove, scusate se insisto con questa mascherina, dimostrate con la vostra energia quello che valete, che siete, buttatela via. E se venisse un altro lockdown, non consideratelo, è la più bella risposta che possiamo dare. Non abbiate timore. Chi diceva? Un grande Papa, un vero Papa. Non abbiate paura. Io non sono il Papa, peraltro. E' un grande esempio, un santo. Benissimo. E sapete a chi mi riferisco? Non certo a questo esponente della Chiesa che vuole essere fatto passare come Papa, mentre benedice le armi che vanno a fare la guerra in Ucraina. Allora, fare yoga è anche questo. esternare il proprio pensiero. Non si può praticare yoga, come mi accennò una mia carissima amica d'infanzia, se si esternano i propri pensieri. Ma chi l'ha detto? Io voglio farmi conoscere per quello che sono. Non voglio avere più scritti perché metto la mascherina. e la ritengo uno dei mezzi di coercizione violenta attuata nei confronti delle persone e soprattutto degli anziani e dei bambini. Siate integri. Vivere in modo integro, integrale, è stupendo. Non c'è nessuna soddisfazione che possa sostituire questa situazione. Sono già, mamma mia, quasi mezz'ora. Bene, allora, concludo con l'ananda dicendo che chi va presso l'ananda fa benissimo, lo consiglio avvivamente, fatevi questa esperienza. Se invece doveste, voleste diventare insegnanti yoga, tenete presente la mia struttura, la Yoga Teacher School. Nella ananda ci si sveglia alle 5 e si fa la prima ora con una lezione di ahata yoga, yoga fisico. Si continua con un'ora di meditazione. Passate le prime due ore così si va finalmente a fare colazione. Prettamente vegetariana. Occibandosi delle erbe trovate nei prati veramente, dei fiorellini commestibili che sono un ottimo digestivo e nutrimento per il nostro stomaco, la nostra vita. Sono prana che entra all'interno del nostro corpo. Altro che insetti o cibi dal laboratorio. Chiudo volutamente ora il discorso dell'ananda. Ne ho già parlato facendogli ulteriormente pubblicità perché se la meritano, però il consiglio che do è ridicola quella mascherina che stentate per far dare il messaggio che chiunque può entrare nella vostra struttura, ma si percepisce, si respira la cosa. Ma non fate vedere la mascherina perché, ad esempio, chi fosse come me e vi posso garantire sono altro che minoranza, stanno diventando, ci ripensa nella vostra bellissima, stupenda, storica struttura. Collaboriamo insieme. Aiutiamoci. Aiutatemi a capire quali sono i miei errori. Io aiuto voi se fate errori. Non ne fate assolutamente. Però, cavolo, vedere tutto questo sforzo di lusso in una struttura che è basata sulla pratica yogica, sull'essenzialità della vita pura, senza strutture, fa molto, molto male. Saluto gli amici dell'Ananda, di Assisi. Shantin, namaste, amici. Troviamoci. O io vengo da voi o voi da me. Shantin. Bene, continuo il messaggio con appunto la mia struttura. Che cos'è la Yoga Teacher? È un messaggio non pubblicitario, ma per informare coloro i quali fossero che mi chiamano, finalmente hanno ripreso a chiamarmi in modo inconsistente per avere informazioni più che sugli iscrizioni che do su chi siamo storicamente. Nasciamo nel 78-79. Nel 78, prima di avviare l'attività, addirittura feci stampare questi Deplianza, avevamo appunto la prima ora di lezione, rarissima questa cosa nel 1978, alle 5 del mattino. Né più né meno della Nanda. Siamo arrivati un pochino, prima noi, come struttura yogica, poi è arrivata la Nanda con tutte le sue, volendo anche macchinazioni, macchinazioni economiche, perché devono comunque, dobbiamo pur vivere, come loro, anch'io cerco di vivere, e di non portare acqua al mio mulino, anche perché penso una cosa, la mia filosofia è che l'acqua va dove deve andare, a destinazione. Si ferma nelle rive oppure preferisce di arrivare al mare. Filosofia. Bene. Dalle 5 alle 6, 6 e mezza, 6 e mezza in genere, avevamo anche noi la prima lezione di Atta Yoga. facevamo successivamente, dalle 8, con una piccola pausa, meditazione, e quindi si andava a fare chi c'era colazione, nella mia palestra, prima di Bologna, e successivamente, mi ricordo che era il Cavaishi, il centro Cavaishi di Bologna, alle 5 del mattino, era pieno, ragazzi, pieno, pieno, e ne ero orgoglioso, felicissimo. e successivamente, mi trasferì in altre palestre a Bologna, fino a che, a Parodai, installai lì la mia struttura, la Yoga Teacher School, appunto, in quel di Ozzano Emilia, nel centro commerciale di Ozzano Emilia, fuori però, era un centro commerciale, all'esterno, chiuso a ferro di cavallo, ma nell'area, non era chiuso all'interno di una struttura, ecco, e mi manca anche quel centro, una delle più piccole palestre, perché la mia era una palestra anche, circa 100 metri quadri neanche, arrivava a 98 metri quadri, per la precisione, in due piani, ed era una piccola palestra, avevo cognato quel termine, per grandi servizi, una piccola palestra per grandi servizi, fu veramente un ritorno, anche economico, notevole, di successo personale, oltre che della mia struttura, mi ritrovai addosso, i primi ad accorrere furono i concorrenti, i competitors, cosa che io aspettavo già, e li attendevo, perché? Perché attraverso loro io ho imparato, attraverso i loro comportamenti, maligni a volte, e in certi casi cattivi, violenti, quando ad esempio posso pensare, mi lasciarono i pezzi di bottiglia di Coca-Cola, avete presente le bottiglie di Coca-Cola di anni fa, quelle tozze, piccole toste, che se le rampete, i pezzi di vetro, se entrano sotto al piede, esplodono, non è che si limitano a tagliare la pelle esterna, l'epidermide, ecco, mi misero dei pezzi di bottiglia di Coca-Cola, all'interno delle docce, sopra femminili e sotto quelle maschili, per diverse volte, feci varie denunce, finché beccai veramente, con l'aiuto e la collaborazione di alcune persone che mi volero e mi vogliono tuttora bene, dei miei allievi e allieve, riuscimmo a beccare chi era, denuncia partì e via, questa è la concorrenza, io attraverso la concorrenza che cosa ho recepito? Non solo queste cattiverie, anche la modalità di correlarmi a loro, per quale motivo però? Per migliorare il stesso, o meglio, i miei servizi, quello che io potevo proporre alla mia scuola, ai miei iscritti, chi usufruiva dei miei servizi, o da personal trainer, o da insegnante yoga, o metodo pilates, eccetera, o arti marziali, ricordatevi che sono nato con le arti marziali. La mia esperienza si è conclusa con le arti marziali verso gli anni 2000. È brutto dire io, utilizzare il suffisso io, perché pare che, oh, guardate quanto sono bravo io, e gli altri sono tutti degli avanzi fisiologici. No, cacca. No, no, no. Negli anni 80-90 sono stato, se non uno, il pioniere delle MNA, quelle che adesso vengono cognate con questo termine, Mixer Martial Arts. Lascio a voi presagire che importanza possa avere avuto per me lo yoga, la pratica dello yoga, che non ho mai abbandonato, pur vivendo con una disciplina, molto aggressiva, molto movimentata, ecco la chiamo così, ma densa di rispetto per gli altri. Difficile capirlo, perché se potreste dirmi, diciamo, il fatto che, ma come vi picchiate, non vi sono regole, e poi dopo si è amici, se non avete mai praticato questo tipo di combattimenti o di agonismo, non potete capire. In genere si diventa amici. Quasi tutti i pugili, i professionisti, Tyson, Muhammad Ali, alla conclusione della loro carriera, sono diventati amicissimi. Tyson è diventato amicissimo con l'altro contendente, adesso mi sfugge il nome, che gli morse e l'orecchio. Sono diventati amici adesso. Leonard con Tyson, anche se erano categorie differenti, Muhammad Ali con Leonard, sono tanti. Il pugile piccolino, mi sfugge anche il nome, filippino. Comunque il mondo è pieno di esempi di combattenti, che sono diventati amici degli altri. Io sono rimasto sempre attaccato e amico dello yoga. Anzi, posso dire una cosa, e ho il coraggio di dirlo, mi sono allenato più con le impostazioni yogiche che con i protocolli operativi specifici allenati che adesso vanno di moda e stanno logorando le persone allenate. Continuate a allenarsi così, continuate. Fra qualche annetto, forse mi cercherete, ma sarà tardi perché io non ci sarò più. Salvaguardate la vostra salute, la vostra incolumità, le vostre articolazioni, i vostri rapporti, perché se vi fate violenza nel vostro corpo, subentra una cosa, che il corpo rispecchia sulla vostra vita le stesse situazioni traumatizzanti. Se avete problemi al corpo fisici, muscolari, articolari, dentini, legamentosi, mentali, tutto ciò si ripercuoterà nella vostra vita. Io spererei che qualcuno di voi mi desse dei feedback su questa mia diretta. Continuo come gestivo l'attività dello yoga che è fatto da perno, ha fatto da perno e ha correlato anche gli orari delle altre attività. Prima lo yoga. Cavamo yoga in pratica dalle sette alle otto ore al giorno nella mia struttura, compresa anche la domenica mattina per cinque, sei ore, addirittura la più estenuante, perché avevo gente che veniva oltre non solo da tutta Italia, ma da anche altri paesi, compreso l'India, dal Giappone, ma dai paesi più lontani, Australia. Uno degli ultimi operatori prima del lockdown che ho formato, io li chiamo operatori, insegnante yoga di secondo livello, è la Leica, di non mi viene il nome, in Australia, Adelaide, di Adelaide, l'ho formata al secondo livello, dopodiché il vuoto e pian pianino, pian pianino, siamo al 2023, circa cinque, sei mesi fa ho ripreso a lavorare, chiaramente non metterò, non chiedetemi di mettere piede in una palestra, ci vengo solo se è vostra la richiesta, che affittate il posto, io vengo a istruirvi, o come personal trainer, ma soprattutto per lo yoga, con lo yoga, non mettendo più piede in una palestra, e sono fermamente convinto, se non chiestami dall'interessato stesso, e ripeto, tra parentesi, ho preso il toro a due mani con enorme coraggio e ho iniziato a insegnare, ho ripreso a insegnare sia i corsi di formazione internazionale per diventare insegnanti e maestri logici e al mio domicilio, o se qui vicino Bologna, al domicilio dei miei clienti, oppure nei parchi, sotto casa mia, c'è uno dei parchi che io ritengo più belli, più grandi anche, non di tutta Italia, ma di parchi medio-grandi, penso sia assolutamente il più bello, il parco dei cedri. Quante esperienze sto facendo fare, stiamo facendo in un parco? Se io vi dicessi che ho fatto una lezione anche stamattina, direte, beh, è normale, al parco, sì, ma non è normale se tutta la notte è piovuto. avevo due persone stamattina che si sono portate il lettino e poi, com'è finita? È finita che noi andavamo via, verso le 8, sono rientrato presto a casa perché mia moglie e mio figlio Romolo sono andati, ah, andateci anche voi, siete ancora in tempo, a Rimini, a Marinella di Rimini, è possibile, comunque, in un paese di Rimini vi è un evento organizzato dal grande Red Ronni con la cantante Grazia Di Michele, col primo tastirista di Battiato, Phil Destreri, Filippo Destreri, che è un mio caro amico che conosco personalmente e con tanti altri artisti, ma soprattutto esponenti di una certa filosofia, religiosi, non religiosi, posso pensare a Meluzzi, al grande psichiatra, psicologo e medico, Meluzzi, poi abbiamo tanti altri rappresentanti, la personalità che parla sempre degli UFO, degli extraterrestri, mia figlia, mia figlia, mia moglie, Lapsus Freudiano, la identifica, diciamo, la identifica come un sovrumano, un esempio da seguire, e insomma sono tantissimi personaggi che si sono riuniti e iniziano alle 8 di stasera in spiaggia a Rimini a Marinello a Viserbella, insomma in un paesino di Rimini se fate la ricerca andate nel canale YouTube di Red Ronnie e lì vedete il video che parla di questo evento qui che inizia stasera alle 8 di sera appunto e si protrarrà fino alle 2 circa di notte per chi non potesse andarci faccia come io non ci sono andato per esigenze personali perché aspettavo delle persone e dei corrieri sempre per lo yoga e quindi consiglio di vedere la diretta stasera nel canale di Red Ronnie su YouTube sul canale di Red Ronnie si chiama così il canale Red Ronnie ok e la diretta partirà alle 11 e mezzo 23 e 30 esatte è un evento si chiama OM collettivo vi prego un attimino di soffermarvi su questa potenza di parola OM perché se io la dicessi la pronunciassi e la praticassi non ha un senso per voi ce l'ha per me che sento le vibrazioni dentro e sto meglio ma mettetevi fate lo sforzo di sentire il mio OM il vostro OM il tuo OM caro amica e il tuo OM caro amico insieme dove ci sono veramente io prevedo sui 30-40 mila almeno persone dall'estero anche insieme è un OM che durerà un'ora solo l'OM immaginatevi la sensazione e l'esperienza che possa portarvi questa situazione a ricreare questo presupposto cioè nel vibrare insieme da paura io penso che alcuni dei presenti si spaventeranno a un certo punto perché l'OM la potenza dell'OM è devastante fa paura anche se rimpiazzante e rigenerante devo dire non avete mai sentito non cantare ma pronunciare OM da migliaia di persone da pelle d'oca se non potete andarci mi raccomando collegatevi alla diretta bene io penso di avere già concluso ciò di cui volevo parlare io mi domando una cosa mi vedete a fuoco o no perché io mi vedo abbastanza sfocato adesso con gli occhiali siccome mi sono ciecato brutto sono è brutto rimango mamma natura mi ha fatto così prima di salutarvi allargisco a tutti voi nel modo più sincero che mi è caratteristico possibile il mio Shanti namaste a tutti voi amici interrompi